Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Critiche insolenti a Andercel. La maggior parte del successo. Il mondo della cultura e dell'arte deve far fronte molto bene alle critiche negative che deve affrontare. Di recente, l'attrice di successo di molte serie tv turche, Andercel. Per affrontare le recensioni negative che ha incontrato. Ercel ha raggiunto il successo sia nel campo della recitazione. E in un'avventura di modellazione molto amata. Ma ha colto male. Recensioni per i ruoli che ha interpretato o per i talenti che aveva. Tuttavia, Ercel ha sempre cercato di accontentare i suoi fan e guadagnarsi la loro fiducia. Ha sempre cercato di affrontare le recensioni negative. Gli atteggiamenti positivi e positivi di Ercel. Ha rivelato la sua identità e personalità alle recensioni negative. Oltre alle serie televisive. Con la sua avventura da modella, Ercel è diventata un'eccellente portavoce e un'icona interattiva. Con i suoi fan sui social media. Ha migliaia di fan fino ad oggi. Sosteniamo e continuiamo a supportare Ercel. Ercel ha sempre dato prova di sé con le sue capacità e caratteristiche. Di conseguenza, è molto importante per Ande Ercel preservare il suo talento. I tuoi sforzi ti aiutano a classificare. Commenti negativi e concediti il rispetto che meriti. Famosa attrice Nazan Kesal, che ha spiegato. Ande, che attualmente sta preparando una nuova serie, ha continuato a recitare nella stessa serie. Essere oggetto di critiche contro Ande. Il commento qui sotto è stato fatto da un fan. La sezione dei commenti del tuo post, come accetteresti di recitare nello stesso dramma? Il talentuoso Ande Ercel. Pessimo seriale. Mano. L'attrice più bella che abbia mai visto. Attrice esperta Nazan Kesal. Lo ha detto anche al suo fan, che non ha voluto restare indifferente a questo commento. Chi ti ha detto che fino ad ora ho giocato con ottimi giocatori? Ero io. Posso chiederti se suonerò con Ande, come trovi il coraggio di scriverle? Se non ti piace, non guardarlo, è finita. Non credo che questo lettore sia compatibile. Ande de perché fa una frase come questa, schia detto che ho giocato alla grande. Giocatori finora? Cosa capisco da questa frase? Ande è davvero incompetente. Per questa ragione. Penso che semplicemente non volesse essere indifferente, ha risposto alle critiche con le critiche. Ma penso che Ande sia migliorata. Mettiamo da parte quello che sei. Ed è la tua vita privata in questo momento. Forse Ande non era una brava attrice. Iniziato, ma ora è migliorato molto. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e... Non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.